La voce dei residenti di Via De Gasperi a Favara è stata ascoltata dall'amministrazione comunale. Ricordiamo che gli abitanti della zona di agenda al polambulatorio del quartiere Luna lamentavano tra gli altri problemi di sicurezza causati dalla mancanza di illuminazione pubblica e carenze di tipo igienico provocate dalla presenza in strada di una folta vegetazione spontanea. Nella questione sabato scorso ce l'eravamo occupati con la rubrica La voce del cittadino in risposta alle tante segnalazioni che i residenti di Via De Gasperi ci avevano fatto per venire in redazione. Immediata è stata la risposta dell'assessore comunale al territorio d'ambiente di Lottardo che ha subito inviato sul posto gli operai per bonificare l'intera area. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica è stato ripristinato il punto luge che era spendo da diverso tempo ed un'altra opera di pulizia straordinaria è stata predisposta dall'amministrazione comunale di Favara nel giardino pubblico dedicato a San Pio da Petracina. A coordinare i lavori effettuati dai giardinieri comunali è stato ancora una volta l'assessore al territorio d'ambiente di Lottardo. Era da tre anni, ci ha detto Attardo, che non si metteva mano all'interno di questo importante luogo di aggregazione sociale. Ci sono voluti due giorni di lavoro per ripulire dall'erbarce e dare una sistemata agli alberi presenti nella terrazza verde che si affaccia a lungo la via Ugo Foscolo. Grazie all'azione di pulizia svolta i tendanziani che frequentano il giardino potranno giocare liberamente a carte all'ombra delle palme. Da due giorni che siamo qui, grazie anche ai lavoratori, ai giardinieri del comune di Favara che vogliono sottolineare la loro importanza, visto il problema che negli ultimi periodi si è parlato del rinnovo del contratto e che il comune senza di loro non saprebbe veramente come venire incontro a queste esigenze, anzi dovrebbe essere intensificato il numero di questi operatori e quindi un grazie particolare. E quindi ci stiamo cercando di dare lustro a questa villa che è un luogo di ritrovo per anziani che ogni pomeriggio si incontrano qui a giocare a carte o a incontrarsi solo per chiacchierare e poi un luogo di culto perché come vedete alle mie spalle c'è la statua di Padre Pio che è un luogo molto frequentato e che quindi specie anche per questo motivo va attenzionato al massimo possibile. Grazie a tutti.